Noi siamo Chubros. Noi siamo due fratelli, come dice il nome. Lavoriamo nel campo della grafica e illustrazione. Diciamo che io sono la parte più creativa, mio fratello è la parte più amministrativa. Per noi lo stile è il nostro passaparola. E siamo riusciti a unire il ciclismo e l'illustrazione che sono due nostre passioni da sempre. C'è stata data una grande opportunità, ovvero quella di portare le nostre idee, di trasferire quello che è l'illustrazione alla maglia da ciclismo. Con Castelli possiamo esprimerci al 100% e a livello visivo possiamo dare una mano per creare un prodotto unico.